Ben ritrovati per una nuova puntata di Coldiretti Flash. Si è fatta finalmente luce sulla vicenda nitrati e sulle lacune e falsificazioni nell'attribuzione alla zootecnia delle responsabilità esclusive di inquinamento delle acque. Il servizio. Finalmente è stata fatta l'operazione Verità sui nitrati. Così il presidente della Coldiretti Roberto Moncalvo commenta la riunione al Ministero dell'Agricoltura d'Intesa con le regioni del bacino idrico del Po, congiuntamente con l'amministrazione dell'ambiente. Risulta chiarito anche che l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, ISPRA, come il coinvolgimento della fonte zootecnica nelle problematiche ambientali sia del tutto trascurabile o minimo mentre assume un diverso peso il contributo di altre sorgenti, in particolari minerali. È chiaro che una volta rimosse le ingiuste accuse agli imprenditori zootecnici, sarà possibile introdurre già a partire dal decreto di revisione degli effluenti alcune semplificazioni, con particolare riguardo ai periodi temporali di spandimento, oltre che di valorizzazione del digestato proveniente dal trattamento degli stessi reflui zootecnici. In occasione della Festa dei Margari e della Montagna, Coldiretti Cuneo e l'Associazione regionale dei Margari hanno organizzato un convegno a Saluzzo per dire basta alle troppe speculazioni sull'affitto degli alpeggi e per guardare al domani investendo sui pascoli alpini. Le importanti problematiche sono state sviluppate alla presenza anche del Vice Ministro dell'Agricoltura, il Senatore Andrea Olivero. Il servizio. Questa mattina abbiamo fatto un attimo il punto della situazione anche col Vice Ministro, con dei relatori molto qualificati proprio per lanciare un messaggio molto chiaro e anche una piattaforma sindacale forte rispetto al fatto che se c'è economia in montagna tutto funziona e in qualche modo se ne avvantaggiano tutti. Chi pensa di tornare a un'ipotetica primordialità, un insalvertimento primordiale sbaglia completamente perché il bello significa presenza dell'uomo, bello significa coltivato, bello significa pascolato, bello significa vissuto intensamente. Questo ha delle ricadute imprenditoriali e anche delle ricadute turistiche quindi anche le altre attività economiche in pianura e in montagna se ne possono avvantaggiare. Io penso alla grande prospettiva che noi abbiamo. Nelle prossime settimane attendiamo questo messaggio dall'UNESCO, questo riconoscimento della bellezza delle nostre colline, ma abbiamo Expo l'anno prossimo nel quale mostrare un territorio che è nel complesso un territorio d'eccellenza. Le nostre aree alpine all'interno di questo sono una parte fondamentale. Il fatto che esista ancora oggi da noi una pastorizia diffusa e un pascolo alpino di grandissima qualità deve spingerci a farlo vedere nel mondo e a far capire che la nostra qualità nasce da una storia e nasce da un'attenzione al particolare che fa diventare i nostri prodotti straordinari. Si sono messi in campo già dei provvedimenti negli accordi fatti con tutti gli assessori regionali perché il pascolo possa essere fatto da chi ha sempre pascolato e non da speculatori che fanno figurare di portare animali da grande distanza e poi nella realtà non procedono. In più si sono messi dei massimali perché è assurdo che vadano cifre sconsiderate a degli investitori che nulla hanno a che fare con l'agricoltura ma che vogliono semplicemente andare a sottrarre risorse a chi lavora nel terreno. I comuni non devono solo guardare all'interesse economico, lo sappiamo tutti come sono piazzati anche adesso, quello è vero, però avere gente che comunque ti mantiene un territorio, ti mantiene un prodotto tipico, ti mantiene comunque un turista che ce l'avrai per sempre. Se uno è abituato ad andare in un alpeggio, a comprare un formaggio, arriva un anno che hanno cambiato tutta gestione, uno che non lo offre più, quello lì viene, quella volta lì poi non viene più. Questo secondo me è una cosa importante e come è importante la tutela del territorio con i piani pastorali che comunque mantengono un territorio integro e non sfruttato con dei carichi eccessivi di bestiame. Secondo me è molto importante trovare un ragionamento con gli enti pubblici, secondo me è fondamentale. Sempre più importante rispettare la lettura delle etichette dei prodotti fitosanitari. Alla luce delle novità legislative recentemente introdotte è essenziale rispettare scrupolosamente tutte le indicazioni riportate sull'etichetta per non incorrere in pesanti sanzioni. Il servizio. Alla luce delle novità introdotte dal decreto legislativo 69-2014, che innova la disciplina sanzionatoria in materia di commercializzazione e di utilizzo di fitofarmaci, diventa sempre più importante leggere con attenzione le indicazioni riportate sulle etichette. Il nuovo disposto di legge prescrive che i prodotti fitosanitari devono essere conservati e utilizzati in conformità a tutte le indicazioni e le prescrizioni riportate in etichetta, pena l'irrogazione della sanzione pecuniaria variabile tra 1.000 e 6.000 euro, fatto salvo che l'inosservanza costituisca più grave reato. Altrettanta attenzione dovrà essere posta al rigoroso rispetto del periodo di tolleranza per lo smaltimento di eventuali scorte di prodotti la cui autorizzazione sia stata revocata. Viene pertanto riconfermato che le prescrizioni riportate sulle confezioni di fitofarmaci costituiscono un vincolo punibile amministrativamente, acquisendo forza e valore di legge. Mauro Tonello è stato confermato alla presidenza dei Consorzi Agrari d'Italia, il CAI, la holding che associa 24 consorzi agrari associati con 700 magazzini, 1.500.000 tonnellate di prodotti stoccati per un fatturato superiore ai 2.500.000 euro. Alla vicepresidenza rimane confermato il direttore del Consorzio del Nord-Est, Pierluigi Guarise, mentre la novità è la nomina consigliere delegato allo sviluppo industriale e agli affari finanziari di Federico Vecchioni. È tutto per questa edizione di Coldiretti Flesch, noi vi diamo appuntamento domenica prossima. E vi ricordiamo che questa edizione può anche essere rivista sul sito www.piemonte.coldiretti.it www.piemonte.coldiretti.it www.piemonte.coldiretti.it